Secondo me l'ultima trilogia di Hitman è una gran figata. Però com'è l'ultima trilogia di Hitman giocata su Steam Deck? Spoiler, la stessa cosa. Amici e amici e belle persone in genere, bentornati sul mio canale, bentornati su Secondo Tava, io sono Stefania Sperandio. Se preferite Tava, dal 2005 lavoro nell'informazione videoludica, dal 2012 lo faccio su Spazio Games, del quale dal 2020 sono responsabile editoriale. La formula pure oggi l'abbiamo fatta. Da qualche tempo però esiste anche Secondo Tava, che è un canale mio personale, un piccolo spazietto, dove parlo dal mio punto di vista, quindi Secondo Tava, delle cose che mi piacciono dei videogiochi. E tra le cose che mi piacciono ci sono anche le piattaforme Handled, come Steam Deck e Affini. Allora, qualche tempo fa io ho giocato Hitman, Hitman 2 e Hitman 3, che è la nuova trilogia praticamente di Hitman, quella che inizialmente usciva per episodi. E anche se la rilisa episodi sotto Square Enix un po' era comprensibile, nel senso che ogni capitolo era un'ambientazione con la missione, poi arrivavano missioni aggiuntive, bersagli illusivi, eccetera, non mi aveva convinto tantissimo quell'approccio, però mi era piaciuta tanto una cosa che faceva questa trilogia di Hitman, che era valorizzare le cose che facevano splendere Hitman come stealth, dove tu ti nascondi in piena vista. Ossia capire che il bello dei vecchi episodi non era tanto nei livelli che magari erano una fortezza militare, tutti dovevi infiltrare, c'erano solo nemici armati, ma erano i livelli ambientati dove era pieno di civili, e quindi tu avevi tantissime opzioni per nasconderti, armi ne vedevi pochissime, e l'omicidio poteva sembrare effettivamente un incidente. Questa cosa, Hitman World of Assassination, la fa alla grande. Ci sono alcuni dei livelli più fighi, secondo me, che sono mai stati proposti in Hitman, in posto che per me Hitman Blood Money è irraggiungibile, perché ha degli slanci di genialità fuori di testa. Mi ricordo ancora oggi il livello dell'opera, che è tantissima roba. Mi sto dilungando però per dire cosa? Per dire che adesso si può trovare, anche su console in realtà, ma noi oggi lo vediamo su Steam, quindi su Steam Deck, tutta la trilogia in un pacchetto unico che si chiama Hitman World of Assassination, cioè voi potete comprare il pacchetto unico e avete tutte le ambientazioni di Hitman 1, 2 e 3, oppure potete anche comprare il pacchetto mini, che dovrebbe avere tutte le mappe del primo gioco, che già propongono una discreta figata tra il livello di sapienza, mi ricordo che è probabilmente la mappa più bella che abbiano fatto di tutti i tre giochi, e anche il livello di Hokkaido era veramente veramente interessante. Insomma, detto questo, il valore dei giochi qui, se amate quelli che vi fanno ingegnare, è indiscutibile. La domanda a cui rispondiamo in questo format, che è quello che ci gira su Steam Deck, è come va il World of Assassination su Steam Deck? Io avevo giocato i primi due su PS4 per la recensione per Spazio Games, e sempre per la recensione per Spazio Games Hitman 3 l'avevo giocato su PC, ma il codice che era arrivato era per Epic Game Store, quindi ho ricevuto qualche tempo fa dalla piattaforma LoreKit, che ringrazio, un codice per provare il gioco, anzi il cofanetto di giochi anche su Steam, ed è stato molto bello poterli provare su Steam Deck. Adesso vi faccio vedere perché. Partiamo sempre dalla prima domanda, prima di vedere il gioco in funzione e quali sono le impostazioni, esperienza di gioco, sono giochi fruibili? La risposta è un grossissimo, sì. Nel senso che oltretutto, essendo strutturati per missioni singole ed episodi, giochi a Hokkaido, giochi a Sapienza, giochi a Parigi, giochi a Marrakesh, tutte le mappe che ci sono, Dubai, sono tantissime, si presta a essere fruito in modo episodico, quindi l'approccio mordifuggi che uno potrebbe avere magari con una hand, o mezz'ora di buco tra una lezione e l'altra, o mezz'ora di buco nella pausa pranzo, con Hitman va molto 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 a braccetto. Le prestazioni del gioco, lo vedremo, sono molto buone, vi spoilerò già che non è neanche difficile da impostare, pure per chi ne sa poco o niente, si presta molto bene al formato di Steam Deck, tutti i tasti funzionano alla grandissima, si possono anche rimappare volendo magari percorrere in modo un po' più agevole, ma una cosa che ci tengo a sottolineare è che Hitman nasce come un Always Online, ossia ci sono delle funzionalità, ad esempio le classifiche o i punti esperienza che accumulate per sbloccare nuove cose, che non sono disponibili se voi non siete connessi a internet e quindi non avete una connessione internet attiva. Questo lo segnalo perché magari se volete giocare in modalità online, non sapete cosa succede se invece state offline, e lo segnalo perché insomma con Steam Deck è facile che magari uno dice boh sono nel parcheggio dell'auto che sto aspettando che una persona finisca di far la spesa, mi metto a giocare, sono offline, cosa mi sto perdendo? Potete giocare le missioni, potete giocare anche diversi tipi di contratto, se mi ricordo bene, tutta la campagna, non avete i progressi, non avete le sfide tipo quelle live a tempo, bersagli elusivi, cose del genere. Quindi il gioco se non siete costantemente online in qualche modo è monco. Questo è l'unico neo che ha l'esperienza di gioco vissuta su una Handled, è una cosa tra l'altro a cui potete ovviare o avendo sempre una connessione attiva, esempio ci giocate a casa, ci giocate in ufficio, ci giocate boh agganciandovi alla rete dell'università, la rete pubblica, quello che vi pare, vi fate hotspot col telefono o robe del genere, e quindi così avete risolto il problema. Però ricordate che alcune funzionalità di questi giochi sono pensate per essere always online. Per il resto l'esperienza è ottima, da quando è stato introdotto l'FSR è anche più che ottima. E adesso effettivamente vediamo perché. Parte subito con questa schermata che però è ottimizzata. Per Steam Deck infatti vi basta premere A o B senza aver bisogno neanche di usare il touchscreen o in alternativa potete usare il touch. Andiamo su gioco perché tanto quelle opzioni grafiche che vi mostra lì le potete vedere anche all'interno del gioco. Allora intanto che il gioco si avvia vi faccio vedere come è impostata la mia Steam Deck. Andiamo alla mappa di Parigi che è molto affollata. Se doveste notare che ho delle mani devastate sappiate che dal 29 febbraio una nuova cagnetta e se avete mai avuto un cucciolo sapete che anche quando gioca ha dei denti veramente clamorosi. D'accordo. 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 Allora questo gioco essendo verificato in realtà si comporta bene già con le opzioni preimpostate che vi faccio vedere. Rimetto tutto a default. Queste sono le impostazioni predefinite da gioco verificato. Ho messo il livello di Parigi perché se avete giocato questa trilogia tra l'altro bellissima di Hitman vi ricorderete che c'è un bel po' di folla. In generale il gioco sta tra i 35 raramente e i 50. Ecco ad esempio adesso ho dato una botta a 50 e qui non abbiamo preso nessun tipo di accorgimento sia siamo nella modalità verificata di base che è proposta semplicemente dagli sviluppatori. guardate quanta gente vi tolgo l'alimentatore per farvi vedere anche il consumo come cambia qua in alto vedete che è già perfettamente fruibile ma proprio alla grande e poi vabbè poi spiegherò meglio nel video dove mi vedete in faccia però è un gioco che si presta molto bene essere vissuto in Handled così insomma abbiamo visto che questa è l'impostazione base proposta da IO Interactive secondo me potete migliorare ancora qualcosina lasciando 1280x800 attivando le FSR io non ho attivato altro sinceramente ho messo FSR 2 qua e secondo me conviene metterlo evitare prestazioni ultra perché vi faccio vedere subito prestazioni ultra dà una bella botta il framerate guardate quanto è salito però non mi piace io vedo l'immagine molto slavata è un po' seghettata è un peccato perché Hitman è davvero un bel gioco da vedere sullo schermo di Steam Deck Oled rende tanto non c'è un guadagno tale secondo me anche perché è un gioco molto ragionato da giustificare il fatto che si smangiucchi un po' la grafica quindi secondo me conviene l'FSR metterlo o su bilanciato o su qualità o al massimo su prestazioni la differenza tra questi non è così forte vi faccio vedere qualità idealmente tra 45 e 50 il gioco si gioca davvero benissimo così siamo su qualità con tutte le impostazioni di default tranne l'FSR attivo su qualità ve lo faccio vedere bilanciato che quello con cui stavo giocando io sinceramente mi è sembrata la soluzione migliore vedete che siamo comunque sempre lì intorno ai 50 senza perdere granché mentre se lo mettete su prestazioni ultra sarà il mio occhio non lo so ma qualcosa si perde andiamo a scorrazzare anche da qualche altra parte guardate qua se volete potete anche pensare di limitare il frame rate qui nelle impostazioni di Steam Deck perché magari risparmiate un pochino in consumo visto che è un po' incostante ad andare tra magari 45 vedete adesso era 56 57 magari lo bloccate dalle parti dei 40 45 se per voi va bene e andate un pochino a risparmiare qualcosa così siamo subbilanciato vi faccio vedere lo scenario di Chongqing da Hitman 3 che è veramente strafigo è uno dei miei preferiti è sullo schermo di Steam Deck Oled e tanta roba allora qui siamo ancora in qualità giusto? sì avevo lasciato impostato su qualità ci facciamo una corsettina vi faccio vedere lo scenario un po' più figo non so se l'occhio della videocamera riesce a rendere conto dei grandi contrasti che sullo schermo di OLED si vedono in questo scenario dove ci sono le luci al neon improvvise e le ombre invece di questi questi vicoli un po' più loschi eccoci qua guardate qua che gran figata e non abbiamo neanche nessun tipo di ray tracing ma c'è nonostante lo scenario con la pioggia tanta roba mi faccio vedere anche le altre modalità proviamo a metterlo subbilanciato sta poco sopra i 50 ve lo faccio vedere anche su prestazioni siamo più o meno lì e non abbiamo perso in qualità dell'immagine su uno schermo così poi si difende molto bene guardate adesso è arrivato anche a 58 sfiorato i 60 qua beh lì è singhiozzato un po' però gli abbiamo messo uno stage abbastanza impegnativo e vediamo prestazioni ultra e vedete che si slava l'immagine e non va a favorire così tanto secondo me perché sempre a 50 stiamo per quale motivo dovrei tenerlo così basso non c'è nessun buon motivo adesso che l'abbiamo visto in funzione in alcuni stage discretamente interessanti è facile rispondere alla domanda ok ma non so niente di mondo pc non so niente di queste handled quanto è difficile da impostare questo gioco avete visto che in realtà è piuttosto semplice perché se proprio voi non volete avere pensieri non volete preoccuparvi di niente il gioco è meritatamente verificato perché potete lasciarlo semplicemente così com'è e già gira bene ma gli interventi che abbiamo visto che potreste voler fare per avere delle performance ancora migliori sono minimi quindi è assolutamente accessibile anche ai neofiti non c'è nessuna difficoltà nell'impostarlo l'ultima domanda del format ne vale la pena si è praticamente già risposta da sola perché come dicevo nell'inizio del video i tre giochi sono di grande valore peccato che alcune cose siano always online ma l'esperienza che offrono se vi piace questo tipo di gioco dove se arrivi a dover sparare per salvarti hai sbagliato qualcosa perché devi avere sempre un piano in mente devi avere un piano d'uscita devi essere un passo avanti rispetto ai tuoi bersagli giocarlo su una piattaforma che si presta molto bene nel mordi e fuggi considerando che sono delle opere incentrate con convinzione e fanno bene sul replay value delle singole emissioni si presta veramente tanto bene a essere fruito su Steam Deck gira bene a livello di prestazioni si presta bene a livello di forma del gioco e come il gioco si adatta a essere portatile quindi assolutamente sì ne vale la pena quindi insomma se state pensando di giocare Hitman World of Assassination e non sapete se possa valere la pena farlo su Steam Deck sappiate che ne vale la pena e come spero di avervi dato tutte le informazioni di cui necessitavate probabilmente si è sentito che sono una grande appassionata dai tempi di Hitman 2 poi avevo recuperato anche il primo e poi da lì tutti gli episodi sono una grande amante della saga di Hitman quindi sono andata un po' in modalità giochi di Kojima ce l'ho parlato un sacco non stavo più zitta fatemi sapere se avete ancora dubbi io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui sono Stefania se preferite Tava e ci vediamo presto su Secondo Tava e ci vediamo su Secondo Tava